cerchio d'oro 15 aprile 2005 e ieri il mio telefonino ricevuto sei messaggi sms di questo tipo da parte del telefonino che era spento dello strumento del cerchio d'oro è un fenomeno che si è avuto in parte non con le stesse modalità ma noi in questo gruppo abbiamo già avuto per esempio il tenore il testo di un sms di uno di questi sei sms è questo spiritus ubivult spirit è firmato da un'entità che si manifesta un'elevata entità che si manifesta attraverso questo canale